benissimo per esempio il punto della situazione quanto è bello vedere il dibattito che si salda e che tutti scappano però finalmente rimasta Luciana per esempio, sono tanto mattino in Italia per esempio la legge sarà benissimo se vi vuoi cercare di dire no se vi tornerò allora, non ci trovo, ormai, diciamo che la stima del consigliere portese è a prescindere ovviamente nel liberazio, l'attacco, fa chiaro, ormai che si può ascoltare quando c'è questo è prescindico, c'è contatto io non lo riesco più mi svolgeranno, mi svolgeranno le sessure, già non mi fa io penso a me che rispondo delle mie azioni che potrebbe capare così, io contatto si ricordi, si ricordi, che non è il mio partito quello che ha eliminato i voti all'interno dei contorzi siderati se lo ricordi, perché a lui riconosco non è stato morale che intellettuale quindi nel momento in cui nel momento in cui cita queste cose guardi prima dentro di te l'ultima l'ultima per quanto riguarda per quanto riguarda il regolamento che tutti quanti io nettamente voglio prendere gli altri vanno assolutamente assolutamente e vi ricordo vi ricordo a tutti la citata del io lo cito le persone io mi scaggo contro il sistema fanno il monolizzatore sanno il suo nome il tutto io mi scaggo contro il sistema e contro quelle persone a cui in natale la sua ragione dicendo l'andata direttore mi scusami mi spesso ma dicendo ebbe forse forse ma è tanto prometto che le due le persone in commissione ricevano un drogno di 5.140 euro parla posto della decisione allora questo è il regolamento per impedire determinare i comportamenti è un freno non è un freno alla libertà democale la libertà democale si esprime in consiglio noi in commissione per quanto riguarda sia una commissione positiva e un continente sovrani democali con le scuole seguiamo la libertà democale il dettaglio di grazie per questa cosa che ha messo la legge con questa voce dell'assessore e non del consigliere la libertà democale non è un'altra cosa che ha messo la legge di un'altra cosa progettura la legge di un'altra cosa io ho sentito la legge io ho sentito che posso fare una bellissima tecnica alla lì portese che io ho preso sempre del lavoro di più forte in commissione e che ovviamente non si faccia una cura piuttosto a chi ho già per esperienza di cui ci dovete spiegare a lui e anche all'amico salvatore che dice guardate che voi io ve lo dico per un vizio di esperienza voi non dovete essere reali un giorno che fa passare un messaggio perché in politica una parte che vince e una parte che vince c'è una democrazia dove c'è una maggioranza e una posizione ma in politica non deve ma caro ci sono ci sono degli atti e qua lo possono dire grandi esponenti dove la maggioranza si deve assumere responsabile questo te lo dico come diciamo notizia che qualcuno si dovrebbe educare questo te lo dico che sono i tempi fuori bilancio che sono i tempi che sono i tempi fuori bilancio e che è pubblico sul mio bilancio quei tre atti romanzi dove si scompe che nessuna la maggioranza politica quindi è sottoscritto che tra l'altro ben ha detto il consigliere polizia non è che ci sono fuori erano nemmeno le tempi di due bilancio della organizzazione e perci in quei enti voi che volete assicurate politicamente avete fatto sbattando e si deve mandare una procedura che non sarà ora invece è l'esercizione un buon ho ucciso un buon no ho ucciso ho il presidente ho ho il consiglio il consiglio Perfetto di rettica. Allora, io volevo rispondere per le lettere. Presidente, io volevo rispondere per la consigliera e spedere. Allora, con tre altra nocci, un di tutta, che ha già mai fatto esciato, tra le nocci, ha già mai fatto esciato. Poi c'è il fatto di passione di lato, mi sono perfetto di lato perché ho capito che non è da solo il profilio, e tra una delle azioni, il mio pensiero, questo, non era, diciamo, solo una iniziativa. Poi c'è il fatto di passione di lato, anche se ci potete fare una cosa importante, e insomma, è il fatto di che ci metteci da prendere, non è da solo il profilio, io volevo rispondere. Allora, io non sono appassionato. Allora, perché le tante d'oggi, le tante d'oggi, le tante d'oggi, le tante d'oggi, le tante d'oggi. Oggi c'è stata questa mia battaglia di tante, che sono da un fatto che non...